buongiorno ragazze benvenute in un nuovo vlog oggi vlog sistemiamo la casa perché io non vi dico che delirio c'è in questa casa ho appena chiuso il vlog precedente sul mio compleanno e probabilmente proprio perché ieri mi sono goduta una volta tanto il mio compleanno senza pensare a pulizie piatti cose c'è la casa che è un disastro completo quindi oggi la sistemerò insieme a voi anche perché oggi probabilmente forse credo dovrebbero anche venire i miei genitori a trovarci quindi io sarò sola con i miei bimbi perché riccardo a lavoro quindi insomma dovrò fare tutto da sola quindi muscolo non c'è il muscolo ragazze scende di sotto il muscolo si sono in tenuta estiva perché tanto so già che parte che stanotte avevo le caldane ma ve ne parlavo anche nel vlog precedente ma principalmente poi tanto quando pulisco mi scaldo e quindi ho fatto che rimanere così poi mi farò una bella doccia e a posto quindi bando alle ciance iniziamo le pulizie a presto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.